Sesta giornata Special Cup, Max Team contro King Hans Charles, risultate di 9 a 3, siamo in una fase abbastanza avanzata del secondo tempo, adesso morra il tiro di punta sinistra, poi Farnuso anticipa bene di testa, cercano di costruire il gioco a palla a terra, i Blancos non è abbastanza la distanza, Farnuso sul pallone metti al centro, ci va bene, poi Cengile, buono il dribbling ma morra, ottima la prestazione di morra oh, aveva lasciato scorrere Sica, che gioco di autiero, poi allarga bene per distribuire la squadra, tutto il rettangolo di gioco poi ancora Sica, guadagna un calcio d'angolo, Gianni Sica al centro a cercare Gentile, quasi scarsa il pallone apposta, poi morra ancora si ritorna su Runga, prima X Team, ciao mamma sempre, Ivone, ciao Ivone, ciao mamma Sica, scende fin giù in difesa, cerca di far girare il pallone lo giocano bene adesso, oh Runga, tiene il possesso palla, poi palla lunga a servire Autiero, più verissima Autiero ancora Autiero, il tiro, completamente svilenco, poi sembra una posizione di Kamasutra ai confronti dell'avversario, complimentoni Sica, antici va bene, ancora palla in avanti, per Gentile, Gentile, ancora per Sica, taglia bene Autiero il passaggio lungo, il colpo di testa mancato Autiero, da un metro e 46 l'altezza, non ci è arrivato poi ancora buona l'azione adesso dei Chats, Chats, Kats, Korsharks, Korsharks, Kantsharks Sica, il velo direttamente in fallo laterale, se la ride Autiero, fiero del vantaggio poi ancora palo in avanti no look addirittura così poi superato anzi fumato max a tiro lento impacciato questo oggi non è vero scherzo runga poi buona la copertura sul primo palo fallo in fallo laterale accesissima la partita nonostante il risultato veda straordinariamente in vantaggio di max team e poi il colpo di punta di runga di evitare un gol per fardo il tiro a incrociare autiero tentato l'autogol pur di vedere se stesso in gol runga a servire gentile da solo lo stop di gentile il cucchiaio fallo di gentile seguiamo ancora un'ultima azione morra poi finisce questa comi cronaca sbagliano è lo stesso anche l'avversario vorrà ancora sul pallone a cercare il sposito anticipato poi sicca a cercare di dar fastidio guadagno il possesso palla sicca poi subisce il ritorno di De Vita in calcio d'angolo diamo quel collegamento